Il Ponte Romano di Mister Cifaldi si è aggiudicato il primo Memorial Gianni Di Marco, grande appassionato di calcio e per tanti anni dirigente dell'Atletico Teramo, scomparso a 71 anni a giugno per una grave malattia. Al triangolare disputato al Ruggeri di Villa Vomano hanno preso parte i padroni di casa di Mister Cifaldi, il Piano della Lente ed appunto l'Atletico Teramo. Questi ultimi sono stati battuti sia dal Ponte Romano 4-0 che dal Piano della Lente 1-0 che poi si sono sfidate in finale con successo 1-0 dei gialloneri. A seguire la premiazione con il capitano Umberto Dorazio che ha ricevuto il trofeo dalle mani di Federico Di Marco, figlio di Gianni. Federico, è stato celebrato questo primo Memorial dedicato a papà Gianni che la sua grande passione era il calcio. Si sono riunite Ponte Romano, Piana Lente e soprattutto l'Atletico Teramo per tanti anni è stato dirigente dell'Atletico Teramo. Sì, lui viveva oltre il lavoro per la famiglia, il calcio è la sua passione più grande. Ha vissuto una vita per l'Atletico Teramo come dirigente, ha cresciuto tanti ragazzi compreso me e compreso te e quindi è stato bellissimo. Poi sono squadre che comunque si sono sempre scontrate tra di loro nelle varie categorie, sia il Piano Lente, il Ponte Romano. Quindi è stato veramente bello, è una cosa veramente molto emozionante. Devo dire che lo tenavamo qui con noi, adesso ci vedeva e penso che era molto contento di questa cosa, è stato molto molto contento.